ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube una stampante 3d a resina che costa meno di 100 euro gtec alkaid vediamo come si comporta questa stampante incuriosisce costa così poco o va bene ed è un grande affare oppure potrebbe essere una grossa delusione vediamo io sono fiducioso vediamo come si comporta e vediamo quello che troviamo all'interno della confezione sulla parte alta troviamo una palettina una pinzetta chiave brugola due pomellini servono per la vaschetta poi qua troviamo il cavo per l'alimentazione e da questa parte una pennetta usb ok l'imballo non è dei più facili però siamo riusciti a togliere la protezione viaggia ben imballata questo dobbiamo riconoscerlo qua abbiamo anche l'alimentatore 12 volt 5 ampere e poi direttamente la nostra piccola stampantina va bene montiamo tutto vi faccio vedere ovviamente il montaggio la calibrazione tutto quello che necessario e la mettiamo subito alla prova e allora innanzitutto scusatevi per il disordine che abbiamo sulla sinistra ma torniamo a noi montiamo quindi tutto quello che riguarda l'imballaggio una busta protettiva questa è la campana che protegge sia da eventuali fumi quindi odori che possono fuoriuscire e dovrebbe anche proteggersi dai raggi uv ok non è molto intuitivo basta comunque sfilare in avanti troviamo la vaschetta e il nostro piatto di stampa protezione per il display protezione per il display touch è una protezione quindi un'altra pellicola per il display che proietta i layer che poi solidificheranno la resina allora effettivamente molto semplice quindi alluminio della giusta robustezza ma nulla di complesso quindi meccanismo semplicissimo piatto verniciato quindi alluminio anodizzato va bene montiamolo altra protezione da rimuovere e altra protezione da rimuovere la nostra vaschetta va posizionata in questo modo e poi utilizziamo i pomellini che troviamo all'interno di questa busta per poterlo bloccare una destra e una sinistra ok quindi poi verrà fissato in questo modo e per poterlo rimuovere basterà fare un paio di giri e sfilare la nostra vaschetta va bene colleghiamo l'alimentazione elettrica l'accendiamo dopodiché carichiamo un file presente nella pennetta e facciamo la nostra prima stampa e allora colleghiamo quindi l'alimentazione elettrica che ci siamo guardiamo anche la stampante dalla parte posteriore perché troviamo l'ingresso quindi inseriamo il nostro jack questo è il tastino di accensione spegnimento molto piccola questo l'ingresso per la chiavetta usb che io solitamente preferisco quando si trova nella parte frontale ma essendo una piccola stampante come tutta la maggior parte delle stampanti a resina sono facili da rimuovere e facili da raggiungere come posizione quindi non la inserisco adesso perché su molte stampanti è necessario inserire la chiavetta quando già è accesa a questo punto la giriamo nuovamente in questo modo è anche abbastanza leggera l'accendo e guardiamo il display ci dà il benvenuto con questo logo compaiono le prime icone voglio farvelo vedere però per bene senza riflessi quindi spengo queste luci dovreste riuscire a vederlo un po meglio è ancora meglio riuscita a vederlo in questo modo quindi abbiamo tre icone una tools che ci permette sia di muovere vari assi attivare disattivare eventualmente l'esposizione questo serve per regolare l'asse z questo per bloccarla questa per pulire la vaschetta quindi emette della luce che solidifica la resina per poterla svuotare con questo torniamo indietro system ci dà pure qualche altra possibilità di agire sul sistema quindi sulla stampante in questo modo possiamo gestire il touch nel caso in cui ci siano degli errori da qua possiamo scegliere il linguaggio e abbiamo anche l'italiano ecco questa è una cosa che mi piace anche se effettivamente la traduzione non è proprio il massimo quindi lingua corrente italiano buono va bene abbiamo anche la possibilità di premere su queste cona per avere a disposizione vari numeri quindi per poter contattare l'assistenza torniamo indietro e allora facciamo direttamente la calibrazione per poter fare la calibrazione quindi prendo questa chiave a brucola che servirà per rallentare e stringere queste viti che in realtà sono già lenta quindi non necessario allentarle e utilizziamo questo foglio è un foglio a4 un classico foglio a4 ripiegato però in due quindi lo metto qua giù vado sul menu quindi strumenti portiamo l'asse z alla home quindi premiamo sulla casetta si abbasserà farà due movimenti dopo di che si stabilizzerà a quel punto potrò stringere queste due viti ok tutto accompagnato quindi da alcuni segnali acustici teniamo fermo il nostro piatto di stampa e stringiamo queste viti che erano abbastanza lente decisamente lente quindi stringiamo senza stringere in modo esagerato non è necessario basta semplicemente che rimanga fermo pure perché durante la stampa non è soggetto particolari forze deve solamente fare su e giù quindi non è necessario stringere in modo eccessivo ok a questo punto gli dobbiamo comunicare che questa è l'asse z quando è in posizione finale quindi che questa è la sua home e la z corrisponde a zero torniamo indietro e gli diciamo appunto tramite questo comando che abbiamo impostato lo z come 0 clicchiamo su buono torniamo qua solleviamo quindi a questo punto l'asse rimuoviamo il foglio e mettiamo la vaschetta tra l'altro all'interno della vaschetta sia da un lato che dall'altro troviamo i riferimenti per il livello massimo il livello minimo a questo punto indosso una mascherina inserisco anche la chiavetta usb e vi faccio vedere pure il menu per quanto riguarda la possibilità le opzioni di stampa quindi in questo caso torniamo indietro andiamo su print quindi su stampa scritto genitaliano clicchiamo su questa cartella e dovevo trovare una cartella con alcuni test quindi in questo caso per esempio test model e abbiamo quindi la torre fell e mi sa che stamperò questa perché effettivamente è uno di quei file molto dettagliati quindi se stampa bene quella allora potrebbe essere una prova una dimostrazione questa stampante lavora bene quindi attualmente torniamo nel menu principale versiamo la resina e iniziamo la stampa e allora indosso la mascherina sentirete la voce ovviamente leggermente diversa però ci capiremo ugualmente volevo farvi vedere che tra l'altro questa è resina lavabile in acqua quindi buono non è necessario utilizzare alcol anche se io solitamente anziché utilizzare alcol isopropilico utilizzo il classico alcol rosa e riesco a lavare senza problemi non mi ha dato mai nessun tipo di difficoltà allora togliamo questa parte poi per poter lavorare con la resina bisogna indossare guanti in questo caso è protetto se riuscite a non sporcarvi le mani di resina nella fase iniziale potete anche non utilizzarli se non siete molto esperti con il rischio di sporcarvi allora utilizzatela ma quando poi rimuovete il pezzo dalla dalla vasca allora in quel caso è assolutamente necessario quindi attualmente vado senza quanti versiamo la resina all'interno della vaschetta non so quanto ne sia necessaria in realtà perché non so quanto sia grande questo pezzo quindi abbondiamo tanto possiamo recuperarla solitamente in molte di queste stampanti a resina danno in dotazione anche gli imbutini in carta in questo caso all'interno della confezione non erano presenti mettiamo quindi la nostra campana e allora quindi ho scelto di stampare la torre eiffel come vedete qua abbiamo l'anteprima anche se sto vedendo che adesso dell'inquadratura non si vede bene come lo vedo in realtà quindi poi cambio inquadratura faccio qualche altra ripresa del display comunque premendo su play il piatto di stampa si immergerà nella resina farà più volte su e giù quindi di volta che si abbassa ci sarà un nuovo strato fino a comporre appunto la nostra stampa premiamo play come vedete va giù compare anche sul display la percentuale di stampa ovviamente appena iniziato quindi uno per cento il nome del file poi il tempo rimanente il tempo impiegato e il numero di layer possiamo anche interrompere e mettere in pausa la nostra stampa sta iniziando il primo layer lo farà molto lentamente come vedete sta immerso per qualche secondo per i primi layer in realtà non solo il primo dove che inizierà ad essere più veloce quindi ha solidificato il primo strato e adesso sta facendo gli altri man mano come vedete secondo layer compare due layer di 2.999 ovviamente guardiamo le caratteristiche tecniche principali non soffermiamoci su tutto quindi la dimensione volume di stampa 82 per 130 per 190 mm per quanto riguarda la risoluzione xy abbiamo 0,051 mm e per quanto riguarda le dimensioni del display 6,8 pollici con una risoluzione di 2k 2005 60 mille 6 e 20 e la risoluzione dell'asse z 0,001 mm come slicer utilizza c2 box come praticamente il 99 per cento delle stampanti a resina quindi adesso lasciamolo lavorare considerando che è arrivato al nono layer su 2.999 avremo un bel po da aspettare farò una ripresa ogni tanto ma poi farò vedere ovviamente il pezzo completo per valutare insieme la qualità della stampa tra l'altro anche questa stampante come tante altre avendo il tasto pausa dovrebbe permetterci di vedere quello che sta combinando nei primi layer messo in pausa dovrebbe sollevarsi e quindi dovremmo riuscire a vedere il primo layer per capire se sta andando tutto bene se è aderito correttamente fuoriesce dal bagno di resina sembra di sì ok abbiamo le quattro parti che vengono proiettate sul display effettivamente solidificate va bene premiamo play si immerge nuovamente e prosegue da dove si era fermato e allora ragazzi già la stampa è pronta da ieri la stampante ha finito di lavorare ho lasciato la torre fell in sospensione sotto sopra perché mi sono dedicato ad un'altra recensione quindi quella di questo incisore laser adesso però togliamo il coperchio guardiamo il pezzo quindi poi di conseguenza lo laveremo lo asciugheremo ma guardiamo innanzitutto come è venuto vi ricordo in questo caso ovviamente utilizzate i guanti perché tutto quello che toccate potrebbe essere sporco ovviamente sgocciolerà tutto perché c'è ancora resina liquida quindi unitevi di qualcosa per assorbire eventualmente la resina che sgocciolerà infatti come vedete se ne stiamo a sgocciolare comunque noi concentriamoci sul pezzo che abbiamo ottenuto già così per me è bellissima allora facciamo una zoomata così riuscite a vedere i dettagli ancora prima di pulire il pezzo ma adesso lo pulisco e ve lo faccio vedere da asciutto dai così facciamo prima e allora la nostra torre ancora attaccata al piatto di stampa ho finito ora di lavarla ancora è bagnata e tutti i dettagli effettivamente non si possono apprezzare bene perché per capellerità l'acqua va in tutti i forellini più piccoli quindi non riusciamo a vedere bene tutti i piccoli dettagli si capisce ma sicuramente da asciutta potendola toccare con più sicurezza perché molto molto delicata sicuramente riusciremo ad apprezzare ancora meglio ogni dettaglio però ragazzi davvero straordinaria una stampante economica che riesce a stampare davvero bene asciughiamola e guardiamola bene e si va bene asciughiamo mettiamo facciamo se non la stacco dal piatto di stampa non riesco a metterla da nessuna parte quindi vediamo se riesco ad evitare di romperla non lo so non lo so se riesco proviamo effettivamente è una stampa delicata ok quasi staccato ok dai più facile di quello che pensavo che bella va bene vado ad asciugarla fatto il bagnetto asciugata ragazzi questa è la nostra torre guardate come si è venuta bene osservate tutti i minimi dettagli per me è una stampante che ha lavorato davvero molto bene considerate che ho avuto premura quindi ho fatto un lavaggio rapido e ci sono alcune parti di resina che si dovevano ancora pulire e si sono solidificate quindi nel fornetto però per quanto riguarda la qualità della stampa è venuta davvero bene sia nelle parti più piccole per esempio questa ringhierina con questi dettagli così piccoli tutti stampati perfettamente anche la base ovviamente sia per quanto riguarda le proporzioni le misure tutto stampato benissimo guardate anche la sommità pure qua abbiamo tanti piccolissimi dettagli e si vedono benissimo guardate qua quindi con meno di 100 euro si può comprare una stampante che riesce a darci questi risultati aderito benissimo al piatto di stampa però c'è un però che adesso vi spiegherò quindi la stampante funziona benissimo i risultati mi piacciono facile da utilizzare economica e può darci grandi soddisfazioni dunque ragazzi c'è questo piccolo dettaglio che però voglio dirvi non me l'ho detto durante il video ve lo sto dicendo alla fine perché dovete guardare il video fino alla fine altrimenti tante cose poi si perdono allora questo piatto di stampa va benissimo è perfetto l'unica cosa a cui dovete fare attenzione dopo avere calibrato il tutto quando stringete queste viti dovete tenere con due dita premuto contro il display mentre state stringendo queste quattro viti altrimenti poi l'adesione è diversa e storto e a me è successo questo l'ho sollevato purtroppo non accorgendomene poi quando iniziato a stampare all'inizio c'era un pochettino di torre ma poi si è staccata quindi ho ricalibrato il tutto mi sono accorto di questo movimento l'ho tenuta con le dita e mi ha permesso di stampare molto molto bene a me questa torre piace tanto vi ho fatto vedere tutti i dettagli e con meno di 100 euro sia la possibilità di acquistare una stampante 3d a resina che sinceramente mi è piaciuta a un bel display a un menu completo display a colori mancano alcune chicche che hanno le stampanti più costose per esempio eventuali filtri eccetera però ragazzi funziona e funziona bene pure senza coperchio ma usatelo sempre perché con la resina non si gioca spero che questo video vi sia piaciuto spero che la stampante vi sia piaciuto se vi serve un stampante che vi dà questi risultati e vi posso garantire che sono sicuramente di buon livello e allora eventualmente valutate e acquistatela se è riuscito a trovare pure un codice di sconto se me lo forniscono bene perché potreste pure risparmiare qualcosina detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo mi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione lì su cliccata sulla campanella dopo essermi iscritti e ci vediamo a tutti i prossimi video ciao da riccardo ea presto